Ciao a tutti, come vedete è tornato WJ, ringrazio anche l'operatore, intro per questa nuova traccia dance che sto elaborando e... scusate, c'è un po' il migliore, un po' il cuore... WJ saluta i nostri radio ascolti, radio, video ascoltatori, saluto tutti il canale YouTube di Angelino e nulla... e niente, grazie perché siamo diventati 274... Ringraziamo tutti gli iscritti, iscrivetevi sempre sul canale YouTube e adesso vi lasciamo alla traccia dance, c'è qualcuno che interviene e che sta buttando qualcosa all'aria... guarda, a me la mi sento, con la rubrica mi sento... ma io sto a kit-up, scusate, una volta tanto sto... Ciao alla prossima! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!